La tonnina seguiva anche il caso di essere salata e noi facevamo appunto la tonnina che quando scendeva di prezzo, dobbiamo capire anche quel fenomeno, quando scendeva di prezzo veniva bollita in acqua e sale, quindi poi veniva messa ad asciugare e dopo veniva messa sotto olio. Poi c'erano le varie parti della tonnina perché per esempio c'era asurra che veniva come sottoprodotto, non gradito, tanto che in quel caso asurra veniva messa quasi da parte per quelli che avevano meno soldi e a minor prezzo, era la parte grassa, tanto che ha dato il termine ansurrato. Noi abbiamo coniato questo termine quando una sostanza è sporca di grasso e noi lo diciamo ansurrato. Ora anche l'interiore di tonno, certamente venivano cucinati e si facciamo una ghiotta con i peperoni, era un modo di usare, non ci buttava niente.